In questa puntata Mutti, quella delle salse, ha fatto un giubbotto, è incredibile, è entrata nel settore dei vestiti, del fashion, forse no, forse sì, non lo sappiamo, Figma ha presentato un nuovo, ha fatto un rebrand, ha cambiato un po' le cose, però forse è tutto uguale o forse non serve a niente, qua ci scontreremo io e te Giuliano, poi parliamo di Paypal che invece ha cambiato logo e qua vorrei sapere la tua opinione perché non ci ho capito molto, Poi parleremo di Youtube, di Pizzat, di Greenpeace, Nike e tantissime altre cose, sigla! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Come state? Bene, bene, bene! Quali problemi ci saranno in questa puntata? Bene, allora perché due settimane fa mancava l'audio, no, così, ieri, la settimana scorsa... Mancava il video! Mancava tutto il finale, va bene, manca sempre qualcosa! Settimana scorsa finiamo la puntata con un tributo a Luca Giurato, che comunque salutiamo per l'ultima volta, perché se siamo qui anche grazie a lui, va bene, danni, allora partiamo velocemente! Che bello! E' un buongiollo! E' un buongiollo, esatto, è un buongiollo! Tanto non mi ricordavo avessi inventato lui la parola proprio, sai? Beh, bellissimo, no, nel senso... Un pezzo l'abbia inventato! No, è uscita, è uscita, quindi è di sua invenzione, in qualche modo! Va bene, niente, voglio iniziare la puntata, ricordatevi che al link qua sotto, in descrizione, trovate l'accesso diretto a Retrobottega, e quindi potete acquistare i nostri super prodotti! In realtà stiamo per refresciare tutto quanto, sta per arrivare, Nanni... Sì, l'accetti, l'accettine, i cappellini, le magliette, le magliettelle... I lineard, beh, c'è per favore, puoi mettermi un attimo a Retrobottega, per far vedere le meravigliose cornie che abbiamo preparato per chiunque! Abbiamo appunto, attualmente disponibili le pin, tutti quanti i lineard in tutte le colorazioni, le carte, i poster, eccetera, eccetera, cappelli ancora sold out, ma... Nanni mi ha detto che stanno arrivando, quindi bene, 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 responsabile vendite, sales manager! E inoltre vi ricordo che potete iscrivervi alla newsletter per essere aggiornati a tutti questi cambiamenti, se non volete ascoltare Giuliano, che li ripete ogni puntata, ma ovunque li ripeterà! Divertente, divertente! Quindi no, ci sa! Quanto ci hai messo a fare queste spille a mano? Sette anni, le faccio tutte io, engraving a uno a uno, e sono tutte fatte a mano! Posso confermare, guarda, per la volta spaccano tantissimo sui lineard! Va bene, perfetto, tutto qua, giusto ricordarlo! Allora, partiamo a pallettoni, breccia, diceva nell'intro prima di Mutti, ce l'avete mandato in tantissimi questa settimana questa notizia, quindi di dovere la mettiamo! Mutti entra nel settore del fashion, è vero, è vero, e ha presentato questa Mutti Travel Collection, è un'activation un po' per... Per l'iter, per l'iter, per l'iter, per l'iter, esatto, per parlare del brand, eccetera, eccetera. Fondamentalmente si sono resi conto che la maggior parte degli studenti fuori sedio, o gli studenti che sono all'estero principalmente, vogliono la salsa. Vogliono la salsa e all'estero è difficile trovare una buona salsa di pomodoro. Vero. E quindi loro hanno creato, in modo quasi paradossale, un giubbotto che in realtà è una dispensa, è un kit con tutti i prodotti Mutti. Ovviamente è un prodotto assurdo, è un prodotto volutamente assurdo, peserà 90 kg questa roba qui, però è una roba, è una roba divertente appunto per far parlare di sé, per far partire una challenge, infatti c'è da iscriversi, adesso non so bene come funziona il concorso, però il vincitore vince tipo 500 mini dispense. È il giubbotto pure, no? Viene anche un giubbotto e questa dispensa. Bellissimo, adoro questi prodotti, onestamente molto inutili, che però fanno parlare, onestamente attivano anche un po' la creatività magari delle agenzie, e dei brand che ci hanno lavorato, dietro saranno stati contentissimi di uscire un po' dal digitale e fare un prodotto. Effettivamente è figo, non so poi chi all'interno di McCann fa questo genere di lavori o se è un partner terzo. Bellissimo, dai, è figo. In realtà sai cosa, velocissimo, a seconda anche un trend, noi siamo stati alla sfiata questa settimana, della Fashion Week, di Sprayground, comunque si può vedere in generale questo trend del fashion, vabbè qua chiaramente paradossalizzato, del fatto di avere molti spazi dove inserire cose, quindi overtask, ultracargo, lo dovremmo chiamare. Quindi un po' gioco con questo trend qui, da un punto di vista fashion, e chiaramente lo fa diventare, fa il suo gioco, e quindi tu puoi metterci tutte le salse, tutte le tipologie di salse dentro le cose. Oltretutto, appunto, facilità di stomaco. Bell lavoro anche dal punto di vista di branding, quindi su graphic design, la scelta tipografica, anche questo, è stato divertente, insomma, perché comunque c'è un'espressione che chiaramente va al di là del brand mutti in quanto produttore di salse, però sono belle activation, è una vicinanza al target. Perché ne stiamo parlando. Esatto, esatto, meritato. Va bene, Nanni, allora andiamo a te, perché qua c'è una cosa che io ho trovato sta cosa, ho detto, Nanni, leggi da tu perché questa roba tua ti diverte, ti piace, e le sai tu queste cose, non è niente di incredibile, non so se voi vi siete mai imbattuti in Webeck Machine, che è un sito che fondamentalmente cataloga, fa dei fermo immagine, va dei siti nel tempo, quindi se un sito cambia, tu puoi andare su questo sito e vedere il sito come era nel 2014, ok? La notizia in verità non ha a che fare con questo sito, ma ha a che fare con Google, perché Google aveva una funzionalità del genere, quindi che memorizzava i siti, ma l'ha dismessa, Internet si era incazzato di questo fatto, ma adesso ha integrato direttamente la possibilità di usare Webeck Machine, quindi tu se un link qualsiasi vai da Google, premi sui tre pallini a fianco al link, e vedi altre informazioni e gli dici, vedi con Webeck Machine, quindi te lo vedi nel passato, quindi cosa puoi fare? Io lo conoscevo questo sito perché effettivamente lo utilizzavamo spesso, quando vuoi fare un po' di ricerca sui siti Internet per appunto ridisegnarli, vedi un po' come sono cambiati nel tempo, magari tu stai copiando un sito famoso, metti caso il sito di Gucci, lo stai copiando alla lettera, ci metti un paio di settimane, nel frattempo lo cambia, che fai? Utilizi strumenti tipo questi, che ti permettono di tornare in Internet per vederti la versione che stavi copiando, oppure se stai facendo ricerca, vedi come è evoluto il sito magari appunto di Gucci, per capire se le scelte che stai facendo attualmente sono ancora valide o qualcuno le ha già fatte e poi le ha dismesse a favore di altre scelte. Stiamo vedendo telefonino.net, questo è oggi o nel 2013? Questo è 2011. 2011, esatto, è molto bello perché appunto vedi magari che un'idea geniale che ti è venuta nel... Anche le notizie sono quelle, come accadde? Certo, fa degli screen, una memoria cache del sito al determinato giorno. Anche questo è un bel utilizzo, perché magari su alcuni giornali, cioè magari per pescare blog o comunque... Telefonino.net si sta ancora, sì, giusto? Sì, vabbè, è la monna. Se cambiano dominio i siti fa anche il cambio di dominio, quindi ad esempio se il telefonino.net diventa, non so cosa, lo recupera. È uno strumento abbastanza utile che se non conoscevate, conosciatelo. È divertente. E appunto può essere, sai, divertente che è utile, rubrica sito bello all'interno di... No, però appunto mi fa piacere che appunto Google abbia integrato la funzionalità all'interno della ricerca. Fico. Morda che la gente... Sapevi che team ha lanciato la SummerCard con Megan Gnocchi, Martina Stella. Adesso lo sapete, brava Google, bello. Bello, 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 interessante. Per salvaguardare la storia di internet. Quindi blog.no, blog archive, no, come si chiama? Wayback Machine. Wayback Machine, scusa, blog archive è il titolo del sito. Va bene, perfetto. Andiamo avanti. Allora, Breccia, mi devi spiegare perché ti sei, insomma, come dire, arrabbiato, quantomeno sei in disappunto con il refresh di Figma? Allora, lo faccio l'idea qua. Se siete troppo nervosi, i rebranding vi toccano troppo nel profondo. No, è vero, è vero. Allora, fondamentalmente loro hanno presentato il branding, non hanno cambiato logo, hanno cambiato niente, hanno cambiato tutto quello che c'è intorno. Perfetto. Albre in Figma. E come vediamo qua, ci sono tanti visual casuali, se non altro possiamo dire che la palette è distintiva, nel senso che magari è molto diversa da un Canva, non ci sono gradienti, è sua, ok? Quello che non capisco è che qua, tutto quello che vediamo, io mi sono letto questo articolo, è inutile. Non è vero, tu sei un pazzo. Le forme, dicono tutto quello che vediamo in questo video, aspetta, ma tutto questo non è Figma. Io Figma lo uso ogni fucking giorno, non c'è niente di Figma. Il branding di Figma è il software stesso, quindi o mi metti delle cose che stanno in tutte e due le parti, oppure stai facendo un lavoro di branding che è inutile, perché questa roba qui c'è solo nella splash page. Se io uso il software, ci sono due o tre anni diversi. Aspetta, chiudo il cerchio e mi dici la prima. Allora qua, vedi, giocano con gli elementi, con i quadrati intorno ai testi, che è l'elemento di selezione in Figma. Capisco. Però su Figma non è così, non ha neanche quei colori. Quindi vuol dire che se tu vedi che io sto lavorando su Figma, non lo associo a quello. Ok. Fine. Fine. Però l'ho presentato oggi, no? No, 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 ma al netto di quello. Ok, questa è una riflessione che io condivido. E sono arrabbiato! No, condivido, infatti, ne stavamo parlando anche prima di questo fatto qui, ok? Perché è giustamente una questione sollevabile. Cioè, in realtà però, sono quasi certo che se tu, ok, grande utente di Figma, su Figma ci fossero quei selezionatori lì, in verde acqua, ti saresti incazzato ugualmente. Perché chiaramente è contro la UX dell'utilizzo della cosa. Va bene? Giusto, perfetto. Ovviamente, in realtà, il brand di Figma non è il prodotto di Figma, in questo specifico caso. Questo refresh qui serve a Figma a fare comunicazione. Quindi, quando tu poi vediamo le conferenze che sono fighe, interessanti e molto belle da vedere, è perché c'erano questo background grafico alle spalle. La comunicazione sui social neanche, in realtà, o i billboard e quelle cose lì. Quindi, il prodotto deve essere, giustamente, secondo me, più neutro possibile, perché è un builder di app, siti e cazzi e mazzi. Questo qua rappresenta Figma in quanto brand. Fai Time Square, fai il coso gigantesco, fichissimo. Lo riconosci perché è Figma. Infatti, Figma, in realtà, è molto bravo a far uscire queste cose, nonostante nell'app non sia effettivamente presente. Però, non puoi dire che questa roba qua non serve a niente. No, no, io sono proprio fermo su questo punto di vista. Per me questa roba qua è totalmente inutile. Ma serve a fare comunicazione? Sì, serve a fare comunicazione, ma non comunica il tuo cazzo di prodotto. Perché questi elementi, anche la palette, banalmente, è giù. Tu la palette la potevi utilizzare nella piattaforma. Ma allora vuol dire che tu stai dicendo Guffing, ma non serve il brand. No, serve, serve, ma non c'è coerenza. È come Whatsapp, che a livello di branding mi usa il neobrutalismo e poi l'app è una roba diversa. E quindi nei Billboard mi fa vedere le bolle di Whatsapp che non sono le bolle di Whatsapp. Cioè, c'è un'incongruenza. No, ok, vabbè, non so benissimo Whatsapp, però al netto di questo, qua non puoi dire che l'identità di Figma, ok, grafica, non abbia senso con Figma. Sono forme geometriche che compongono strutture, così come tu costruisci delle cose dentro Figma. Ma è troppo astratta la cosa. Ma è un lavoro astratto. È troppo astratto. Ma altrimenti non avrebbe bisogno di break. È troppo astratta. È troppo astratta. Figma ha reso iconici dei certi colori, certi comportamenti all'interno del suo software quegli elementi lì che sono la selezione, che sono le icone, che sono il viola del... Guarda, questo viola... Tu sei un malato. Aspetta, guarda. C'è un color coding, ovviamente, all'interno del software. Per esempio, questo... Come si chiama? Questo... Ragazzi, posso fare da passire? Aspetta, come si chiama questo colore? Scusami. Questo colore... Inventolo, inventolo. Magenta. Questo magenta, questo magenta... Magello. Questo magenta... Magellano. Il color coding del software corrisponde ai componenti. Ok. Ok. Sì. Allora, il ragionamento di Breccia ci sta, che è un po' paragonabile a quello magari di Spotify, di tutte le piattaforme che comunicano in un modo molto diverso da quella che poi è la UI del prodotto stesso. Ok? E ci sono, lui nota, delle incongruenze tra la UI, quindi effettiva, che poi utilizzi nel prodotto che stanno pubblicizzando e la comunicazione che fanno per farti utilizzare il prodotto. Ok. Ed è vero, è giusto e sono d'accordo, onestamente. Potevano sforzarsi a creare degli elementi di contatto all'interno del branding. Ma esistono i quadratini bianchi con l'altro con l'altro con l'altro. No, potevano sforzarsi di più magari a creare degli elementi di contatto. Sarebbe stato anche più divertente magari. Invece sembra un po' fatto da un'agenzia esterna. È fatto internamente. Sembra, infatti sembra un po' fatto da un'agenzia esterna che ha deciso di comunicare un prodotto che non è quello. Però, però, di questo c'è da ricordarsi che Figma ormai oggi non è più l'app per costruire il software per costruire le app e basta. Perché ha presentato quella delle slide che fa da competitor a Canva. Ha presentato Figgem, già che ormai è una grande parte di Figma che fa da competitor a Mural e Miro. E quindi è un prodotto a tre anime principali. E questa comunicazione probabilmente aiuta nella comunicazione di questi tre macro prodotti con più facilità. Quello che stai difendendo tu è un terzo della Figma che esiste. Quindi, tanto più che interno, evidentemente questi ragionamenti li hanno fatti. E magari vedremo in futuro dei cambiamenti. Non dimentichiamoci che quando fai un brand non è che sarebbe a forza soltanto la comunicazione con l'esterno. Quando loro fanno le slide interne per comunicarsi di cose, raccontarsi roba, vendere picciano cose, evidentemente avranno un cazzo di guide incredibili strutture, elementi grafici che devono utilizzare. Se no, che fanno? Non mettono niente. Sì. E c'è? Non so, per niente a cosa. E vabbè, scusa, ma è più complesso di quello che dici tu. Allora, il motivo per rifare un branding è perché effettivamente sono arrivati altri prodotti e devi differenziare. Questi prodotti in questo momento hanno dei colori diversi. Presentazioni, l'arancione, l'arco e viola. Ok, questi tre colori, Nanni, questi tre colori qua in questo branding non sono presenti. Non ci sono. E in un altro video di presentazione del brand a totale, vengono differenziati in un modo che è poco chiaro. Forse qua il video non lo riesco a trovare, poi vediamo se riesco a trovarlo, ma non ci sono. E un altro elemento qua che giustifica questa mia critica, vediamo qua, questa è la nuova UI appena fucking lanciata, ok? Ci sono dei colori, c'è questo verde, questo verde è molto importante, è la loro cosa più costosa, è la developer mode, ok? Questo verde qui non c'è nel branding, non c'è, non c'è nel branding, ci sono degli altri verdi, c'è una palette completamente diversa. Questo verde ti sembra uguale a quell'altro, l'arancione. La palette di Figma è infinita, cioè è creatività, è loro concept. Ci sta che per te sia più frustrante rispetto a altri servizi, però anche Dropbox, WeTransfer fanno esattamente la stessa cosa. No, Airbnb, la sua identità al branding è uguale all'interfaccia, Apple è uguale all'interfaccia, usano gli stessi elementi. Sono molti diversi, ma stai scherzando? Ma tu su Figma come fai a fare un branding che metti dentro il software, quando il software fai quello che cazzo vuoi? Quello che stiamo vedendo, questa interfaccia è di per sé branding, poi ovviamente è molto neutra. Ho capito, è molto semplice, non c'hai tipo i bordini con le cose matte intorno. Io non ti chiedo di fare i bordini, ma almeno la color palette, cazzo, fammela coerente. Ma la color palette è gigantesca di Figma. Va bene, comunque io cambierei discorso perché mi sembra. Allora, per invece gli intrippati, no, perché comunque io per esempio invece i due blog... Però frappiamolo questo, se no è solo un... Sì, esatto. Ma perché ne pensate anche voi, chiaramente? Nei commenti, spero abbia già commentato. Team Giuliano o Team Breccia? Ah, per Team Paceri, Team Democrazia Cristiana. Con Nanni, nella newsletter, per chi è scritto la newsletter, trovate due link che io personalmente ho apprezzato molto, sinceramente, sulla questione, che sono i link del blog di Figma, dove spiegano le scelte fatte sull'identity. E soprattutto ce n'è una solo sulla typeface, che è bellissima, secondo me arrapante, proprio come sono arrivati al nuovo Figma Sans. E le ispirazioni, eccetera, l'ha fatto con Grilly Type. Io mi sono un po' eccitato perché è molto bello. Poi, soprattutto, secondo me, Figma fa scuola a questo punto di vista qua e basta. Per me andrebbe visto più come il branding della community che ha fatto Figma, il software che è oggi, piuttosto che del software che Figma oggi sta vendendo, che prima vendeva al 100% della sua azienda, adesso un terzo della sua azienda, in futuro probabilmente scomparirà questo programma di cui tu parli, andrà via. Queste immagini che stiamo vedendo, questa è Figma. Questa, secondo te, è Figma? Non è per niente Figma, perché quelle forme non le riesci neanche a fare su Figma. Dannazione. Nessuno di quegli elementi è di Figma. Nessuno di quegli elementi. Questa cosa qui non rappresenta Figma in nessun modo. A maggior ragione oggi che hanno aggiornato l'interfaccia con la nuova... Quindi hanno fatto nuova branding, nuova interfaccia, e le cose vanno di là, non si incontrano minimamente. Vabbè, questa era la mia credenza. Oggi? Magari, in futuro. Che mi hai fatto l'abbia così tanto inizio puntata? Allora, andiamo avanti con l'altro brand, invece, che fa esattamente la stessa cosa, però a questo punto a Breccia piacerà, perché da quello che si è visto è totalmente fedele, visto che è un'app di pagamenti, quindi sti cazzi. PayPal, un nuovo brand di PayPal, che a tutti gli italiani ha ricordato dannatamente RaiPlay, perché il fatto è uguale, è uguale, stesse cromie. Al letto di questo memino... Rai. Rai. Rai, sì, sì, RaiPal. È vero. Al letto di questo memino, quindi nuovo brand per PayPal. Penso, allora, in realtà già l'app, probabilmente l'icona dell'app è stata modificata, principalmente da un punto di vista di logo in sé, quindi la WP che si overlappa, gli angoli sono diventati più sharp, quindi se prima vi ricordate era un po' stondato, adesso è completamente, stiamo parlando adesso, completamente dritto, in buona sostanza, e in generale, in verità, sarò completamente onesto, non che PayPal sia mai stato un grande esempio di branding da seguire in genere, continua a non esserlo, in verità. La buona parte del lavoro che sarà fatto in questo caso, da Pentagram tra l'altro, è sull'emotion behavior, perché di fatto tutta l'intera identità ha senso, solo se viene considerata, sul fatto che tutte quante le animazioni che stiamo vedendo dovrebbero poi apparire nell'app e tutti quanti li utilizzi, perché di fatto generano motion behavior legate alle cose che tu stai facendo, quindi ti ripasso i soldi e quindi switcha le tab, che c'è più, pago con tap e paga, e si vede il tap che succede, e quindi, però male, è un'identità, benissimo, legata più che altro alle micro animazioni. Tutto il resto è abbastanza noioso, a dir la verità, più noioso di prima, se noi andiamo su sito e tagliamo di Paypal, c'è ancora roba vecchia, su scuola internazionale invece è già cambiato tutto, Paypal prima utilizzava anche un approccio illustrativo, anche più friendly, se vogliamo, in questo caso è molto più tech, molto più serio, e secondo me questa è l'intenzione in realtà di questo lavoro, probabilmente perché nel corso del tempo sono arrivati tanti competitor nuovi, visto che comunque Paypal adesso fa anche il pagamento in rate, quindi sarà di vedere anche con Clarne, sarà di vedere anche con Scala Pay, con altre realtà che fanno, poi non parliamo poi a livello Stati Uniti, ancora tanti altri brand, lui è il più longevo in verità, Paypal sulla piazza, e quindi probabilmente doveva adattarsi a questa cosa, quindi questo qua lo vedo un lavoro, un po' di adattamento, quindi molto triste da questo punto di vista, nel senso un po' basico, dovuto, dovuto, bravissimo, un lavoro più dovuto che più ricercato, che però sono un po' i lavori per cui Painteram è specializzata, cioè quelli di rifinitura, un po' come aveva fatto con Mastercard, come ha fatto con Mastercard, però vabbè che è il cazzo, è rimunzionario, quei lavori di American Express, aveva fatto anche una roba del genere, cioè è molto più, mettiamo ordine, in modo tale da costruire successivamente, io lo trovo un lavoro fisico, cioè è fatto comunque, sì, è fatto bene, è un lavoro, è un incriticabile, sì, esatto, è un giusto lavoro, giusto lavoro, tutto sommato, precisissimo, precisissimo, ok, c'è la typeface tutta loro adesso, che di fatto è un tipo futura, inspired, cos'è colà, ok, un lavorettino, un lavorettino bello, preciso, incriticabile, non c'è niente da dire, però, bello, no, a me, chi se ne frega, che a me piace, però, è uno di quei lavori, per il quale, spendi tantissimi soldi, e hai un po' di sistemare, hai tutto sistemato, noi osetto, noi osetto, posso dire noi osetto? Ordine, noi osetto, sul sito, c'è già, ho messo anche il sito internazionale, già si vede, un'altra delle cose, che non so se, ne parlavamo prima, un altro dei motivi, per cui questa cosa può esistere, è perché, stanno lanciando, o forse in America già esistono, le carte Paypal, quindi fisicamente la carta Paypal, con un conto Paypal, quindi associata al tuo conto Paypal, chiaramente questo aiuta anche poi nella distribuzione, in termini proprio pratici, in Italia c'erano le prepagate, lo dico perché tanto lui lo sta già scrivendo, capito? esatto, sta scrivendo là, in Italia già c'erano le prepagate, però per questo sono conti veri e propri, magari può aiutare anche in alcuni articoli, pare che questo brand serva anche a, poi spalmare il brand stesso, su queste superfici fisiche, per le prime volte, diciamo così, può essere sensato, in verità, però oggi c'è da dire che sì, hai detto bene, l'adattamento adesso è moderno, cioè è linea con tutto il resto, perché è un brand del genere, un'azienda del genere, non può rimanere indietro, esatto, già l'app, adesso non so se hanno aggiornato anche l'app, mi sembra, non in Italia, però mi sembra di vedere che comunque, ci sono degli elementi totalmente nuovi, l'app in questo momento, non è una bella esperienza, io uso sempre Paypal, ma non è una bella esperienza, c'è un mock-up, sì, in effetti sì, esatto, davvero è un solo stare dietro a quello che succede, tutto qua, un refresh, va bene, un refresh, un refresh, va bene, quindi entusiasmo, no, in verità, basso entusiasmo, il giusto, anche se mi fate un giro su Paypal, Instagram, vedete che, voglio dire, Paypal è tipo, il brand più longevo, si vede che ha i soldoni da spendere, con le star da ingaggiare per le cose, sì, certo, anche per le brand, però, sti cazzi, sinceramente, in questo momento, preferisco stare su un'altra barca, tipo, altri servizi simili, altri servizi simili, fanno cose, a livello di comunicazione più fighe, va bene, andiamo alla tecnologia, però non c'è niente di più figo, di quelli di Snapchat, di Snapchat, allora, io, che succede? parlo di, da un po' che non stai, secondo me, di coolness, in questo momento, perché, il, il prodotto, lascia un po' quel tempo, qual è il prodotto? Snapchat ha tagliato i nuovi spectacles, che sono i loro occhiali, in di, realtà aumentata, prima non facevano un cazzo, poi la seconda versione facevano ancora meno, sono arrivati alla quinta versione, la quinta versione sono effettivamente, loro si sono totalmente focalizzati sulla realtà aumentata, quindi su occhiali che interano un layer digitale, facendo questo video, che poi vi lasciamo in newsletter, che state vedendo adesso, molto figo, dove appunto sfottono, deridono, deridono la realtà virtuale, cioè il fatto di doverti immergere totalmente da solo, e ignorare gli altri umani, mentre, con la realtà aumentata, gli altri umani diventano parte del tuo gioco, con un'interazione molto più figa, lo spot è molto figo, gli occhiali sono discutibili, ma anche secondo me interessanti, quanto meno interessanti, sono sicuramente una via totalmente diversa, da quella che sta facendo Meta, con Ray-Ban, quindi non intrusiva, non visibile, quindi loro si vogliono far vedere, che hanno degli occhiali, che fanno questo addosso, totalmente diversa da Apple, che appunto sono la categoria di device, derisi nel video, molto interessante, mi piace molto questa, queste interazioni che... Scusate, no, finisce, avete commentato questi occhiali con... Beh, davvero? Beh, a me piacciono, cioè nel senso, aspetta, mi piace il fatto che, sono una via di mezzo, diciamo così, mettiamo di tra, Ray-Ban chiaramente è il prodotto per tutti, cioè è un prodotto totalmente mainstream, senza personalità, dai, nel senso, sono delle telecamere dentro di qui, i fire sono gli occhiali per antonomasia, quindi piacere a tutti, questi no, quindi questa cosa qua, di andare bold, una scelta estetica, è apprezzabile, è apprezzabile, è apprezzabile, poi ti possono piacere, Snapchat ci ha dato dei soldi, mi... Oh, ti possono piacere, no, ti possono piacere, ma benissimo, ma benissimo, ma non ti piacciono, ci sta, ci sta. Non c'è niente, allora, noi se analizziamo il percorso che hanno fatto, che hanno cercato di, di non essere mai discreti, ma hanno provato di entrare al mondo del fashion, di essere esagerati, questo qua è un occhiale veramente brutto, cioè molto tech, molto tech, però l'occhiale, l'occhiale, la via precedente degli Spectacles, erano quelli di Latondi, che assomigliavano a molte Ray-Ban, e chiaramente adesso si trovano di nuovo, a combattere con Meta, cioè la battaglia Snapchat, Meta ormai è infinita, e chiaramente hanno detto, ok, si sono buttate anche quelle di Meta, con Luxottica, non possiamo più competere, andiamo da un'altra parte, e hanno scelto questa, onestamente la trovo, di nuovo una scelta coraggiosa, dalla parte di Snap, che effettivamente, continua a percorrere una strada tutta sua, ma questo è apprezzabile, secondo me esatto, è apprezzabile, e comunque molto interessante, anche perché appunto, tutti i tipi di interazione, sul quale hanno lavorato, nella realtà aumentata, sono comunque molto genuini, molto tra persone realmente, tipo c'è, saluti una persona, gli fai vedere il tuo saluto, è un unicorno, compaiono l'unicorno, la partita di scacchi, molto bella, in metro, cose molto genuine, bello, bufissimo il video, perché in alcuni frangenti, proprio, quasi mette a paragone, no, il Vision Pro, quindi la visione, della virtual reality, con questi aggeggioni, giganteschi in faccia, o a me, ogni volta che caccia fuori qualcosa, Snapchat, per quanto sia un brand, molto lontano da noi, perché non lo usiamo, siamo molto distanti, quasi non ci riguarda, no, come brand, però è sempre bello vedere, che è proprio i cazzi suoi, ed è divertente, e infatti, vi ho messo, per contrapposizione, lancio stessa data, stesso periodo, anche i Vive, HTC con Vive, è appunto una delle pioniere, della realtà aumentata, anche della realtà virtuale, uno dei primi headset, era proprio di Vive, questo è il modo, con cui lo presentano loro, quindi, chiaramente, ancora un dispositivo, indirizzato, non a tutti, gaming, molto influenzato, anche HTC, dall'ultimo arrivato, che è quello di, Apple Vision Pro, è molto più noiosa, come, come alternativa, non è, esatto, anche come, come viene presentato, effettivamente, ci sono, mille casi d'uso, puoi usarlo, puoi ingrandire, ci sono le gesture, molto simili, a quelle di Apple, l'interfaccia, anche, quel frosting, sembra un po' ereditato da lì, beh sì, anche questo video, è un po' Apple, sì, hanno capito, cioè, gli altri, iniziano a sembrare, un po' smarriti, onestamente, Apple è andata dritta, come ultima arrivata, Snap, anche va dritta, come il rookie, underdog, esatto, l'underdog della situazione, quindi va, per cazzi suoi, i vecchi, le vecchie guardie, mi sembrano, onestamente, un po' smarrite, almeno dal punto di vista della comunicazione, poi, i prodotti sono chiaramente quelli più avanzati, questo ha anche il tracking del corpo umano, sì, sono quelli più avanzati, perché, dal punto di vista tecnico, perché sono quelli che lo fanno da molto più tempo, quindi i prodotti sono effettivamente, più, qualitativamente, migliori, probabilmente. Vabbè, la grande differenza è che, citando il nome del prodotto, Snap ha sempre avuto una visione, Snap ha sempre avuto una visione molto, molto chiara, e in questa visione si è permessa, appunto, di prendere strade che nessun altro aveva il coraggio di fare, Vive, sono molto, molto tech, molto, molto più quadrati. Sì, quindi niente, questo è l'ultimo avanzamento nella realtà aumentata, virtuale, e, no, è interessante, perché poi, effettivamente, se non si parla di Apple pare che gli altri non stiano facendo più niente, quando invece, tutte e due sono più o meno intorno ai 1200 euro, Snapchat, 100 euro al mese solo per i developer, per un anno, mentre invece, Vive, te lo compri, e basta, quindi, un prezzo molto più basso, molto più, accessibile, affordabile, esatto, accessibile, scusa, non mi viene ogni tanto, ho questa, da parte l'inglese, è bellissimo, molto più accessibile, ok, 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 va bene, team Snapchat, team Vive, in commenti, va bene, allora Breccia, team YouTube, che dici, no, YouTube, tocca a te adesso, sì, YouTube, allora, YouTube ha presentato, purtroppo, io, vabbè, sai, ci sono affezionato a YouTube, ci sono affezionato, vabbè, è una funzionalità bella, è arrivato il gettone? No, a Breccia ha fatto 100.000 follower, iscritti, come si chiamano, va bene, mettete, mettete un emoji, mettete una campanella, sotto casa a Breccia, questa cosa, va bene, vai, dici tu, no, allora, io, per me YouTube è nel cuore, e loro provano a fare, a presentare le funzioni, però, secondo me, a loro manca proprio la visione, cioè, a volte presento le funzioni, che il mondo di YouTube, chi le utilizza davvero, non riesce a capire, questa funzione è molto interessante, no, si chiama hype, fondamentalmente, è la possibilità di schiacciare questo nuovo pulsante hype, per i creator, che hanno meno di 500.000 iscritti, in modo da spingerli, in qualche modo, anche perché si sono resi conto, effettivamente, dagli analisi, che il pubblico di molti creator, vorrebbe supportare proprio creator, no, tante volte abbiamo letto, anche sotto i nostri commenti, eh, merita, resta di più, eccetera, eccetera, grazie. L'80% della Gen Z che hanno intervistato, 70% tra i 18 e i 24, l'80%... Ci sembra il TG2. E' tanto. Cosa? 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 Se vogliono dare un po' di statistica e di serietà a questo programma. Cosa fa questo 80%? Vorrebbe supportare economicamente i propri creator. Ok, bello, bello, bello. Quindi, capisco che è una cosa che la nostra generazione non tollera, perché la nostra generazione è una generazione nata con l'internet gratis, con il far west di internet. come resti mai un'auto? Vedete la generazione di 18-24, no. Sa che internet si paga, che la gente di internet guadagna, e quindi vuole contribuire. Vuole contribuire. Scusa, continua con... Il problema qual è? Il problema è che questo pulsante AI, in realtà, non porta a indicizzare meglio il tuo video, porta semplicemente a una classifica settimanale con i video più hypati. chi cazzo ci va in quella classifica lì? Così come non esiste più la classifica trending. Adesso può capitare che il tuo video vada così bene, in termini di indicizzazione, che va nei trending. Ma il trending non c'è più. YouTube ha tolto la sezione trending. Quindi sono delle strade un po' a metà. Per andare in questa categoria, vuol dire che devo mettere hype, e dopo appare il tasto leaderboard. Cioè, non può succedere. Sì, praticamente, ogni creator può mettere tre video a settimana, in questa categoria hype, e i follower, le persone che guardano. No, puoi hypare tre video a settimana. Puoi mettere, puoi, sì, puoi far hypare. Puoi far hypare. Ok, ok. E poi però c'è anche una parte a pagamento, dove effettivamente puoi acquistare degli altri hype, per supportare ancora di più il creator, e il creator guadagna da questi hype. Quindi non si sa, magari diventare anche una formula di micropagamento, punti per questi, per questi, che poi siamo pure noi, però. Ah, sì, sì, tra l'altro noi entriamo in questa categoria, assolutamente. A sto punto, non so se questo, magari se si può già fare, cioè, noi dobbiamo mettere in categoria hype. è stata presentata. Ah, ok, ok, non si può ancora fare. Non si sa quando. Tra l'altro posso dire, perché la pagamento ha aumentato più, 500.000 sono comunque tanti, cioè, no? Sono tanti. In Italia, sì, in Italia, sì. Nel senso, no, comunque, esatto, cioè, però magari... Potrebbe partire da un po' più basso, cioè, se l'obiettivo è anche un po' quello, magari, un'altra lamentata che io ho inventato leggo su YouTube, è che i canali piccoli rimangono piccoli, fanno molta fatica a salire. Certo. No? Quindi magari potrebbe essere un mezzo anche per spingere canali più piccoli. Certo, sotto i 500.000, quando rimettevano all'Italia... Ci sono tanti, sono tanti amici che lo fanno per lavoro, ma da tantissimi anni hanno 200-300. Esatto, sono comunque molto seguito, Esatto, quindi... In Italia è tanto. Magari li scaleranno in basso i paesi. Posso darvi la mia così? Magari creiamo un po'... Di solito non lo facciamo in puntata, però, secondo voi cosa manca a YouTube? Cosa manca a YouTube? Allora, hai ragione nel dire che probabilmente hanno una... non hanno una vision a lungo termine, però è così difficile, cioè, averlo per questo tipo di prodotti, cambiano così velocemente. Cioè, YouTube probabilmente ce l'aveva, poi è arrivato TikTok, e ha detto, porca troia, corriamo ai ripari, e ha dovuto cambiare. Però quello che fa è proprio TikTok, fatto ovviamente male. Sì, però devi tappare i buchi a quel punto. Non lo so, cosa manca? Boh, forse questa cosa qua a me piace, esattamente, supportare i canali piccoli, per cercare di... Perché poi ci sono canali piccoli, che hanno una qualità incredibile, chiaramente, non riescono a... Non è facile. Non riescono, non riescono, anche per motivi, non voglio dire, le burocratici, però, tutte quelle cose là, se ho dell'indicizzazione, il... ci sono tante piccole cose che tu dovresti fare su un video YouTube che magari il creator genuino ignora, anche noi genuino... ma infatti è quello che... che però effettivamente, se tu fai, sono molto utili al canale. Per esempio, YouTube è proprio quello, è troppo complesso. Cioè, c'è una barriera all'ingresso, devastante, probabilmente. Se voi vedete la dashboard di YouTube Studio, o quando carichi un video, è un delirio. Ci sono mille cose che poi magari, ovviamente uno dopo un po' si scoccia, cioè, di capirle, ma così come... a me mi piace, cioè, si poteva definire quasi il problema di... lo stesso problema c'è a Facebook, che ha avuto Facebook a un certo punto, quando... oppure tipo... tutte quelle... una serie di insight, dati, eccetera, perché tu sei il creator, non so se è giusto che tu deva preoccuparti di tutta sta roba, per performare. però io dicevo, più lato usabilità, non tanto YouTuber. Cioè, più lato utente. Vero, vero, mi piace questo punto di vista anti-data, perché poi dopo stavamo vedendo un'altra notizia che non l'abbiamo messo in puntata che era della I di YouTube. Eh no, esatto, anche quello, anche quello. Le funzionalità, effettivamente questa ansia da prestazione che crea la dashboard dei creator su YouTube probabilmente crea un contenuto standardizzato della piattaforma che ha poco di creator, ha molto più di emittente televisiva che quindi va e inizia a seguire delle regole di programmazione, delle regole di format e anche di cosa va e cosa non va all'interno di quella piattaforma piuttosto che uno strumento per tutti per creare. Va bene. E poi soprattutto perché cazzo di short devono durare un minuto e basta, porco Giuda. Va bene, andiamo avanti. Va bene. Questa cosa ridica, sono shorta, sono shorta. Va bene, l'attivation molto carina che arriva dagli Stati Uniti con Pizza Hut. Allora, veramente molto divertente, questa è assurda, in buona sostanza tu attraverso questo form che peraltro questo qua è l'articolo form online, form online, puoi inviare il tuo curriculum vite all'azienda per cui vuoi lavorare sotto forma di pizza. Cioè letteralmente mandi la pizza al tuo futuro wannabe capo, con il tuo curriculum stampato sopra. È un'activation chiaramente riservata a poche persone, sorta di contest, nell'apposito sito, solo a New York questo, puoi inserire, ti riscrivi il tuo curriculum, quindi tutti i dati che vedo adesso in questo momento, metti l'indirizzo del capo a cui vuoi mandarlo, quindi vuoi lavorare per design keys per dire, ok, e mandi la pizza a nanni, all'attenzione di nanni. e questo lo dice il tuo cibi. Fate così, questo è il modo in cui lo vedi. Pensa a questi che magari una, tipo Frog o che cazzo sai, io ricevo 10 pizza al giorno. 50 pizza al giorno. Comunque io l'ho fatta questa cosa. E' mandata una pizza? No, l'ho fatta. Di ciambelle. L'ho fatta una ciambelle è andata malissima. Malissima. Sì, col mio curriculum. Non fatelo. Fatelo o non fatelo? Secondo te? Era una buona idea. Possiamo di essere una scelta cringe o l'avresti di fatto? Ma ovvio che era cringe, però... Ma questo non di poi? Dico oggi. Però lo sai che io lo rifarei? lo rifarei assolutamente. È una cosa che apprezzo. Cioè se facessero a noi io lo apprezzerei tanto. Sì, pure io. Pasticcini. Poi chiaramente, chiaramente, stai chiedendo la pizza. No, chiaramente, ecco, il discorso per quello, perché Riccardo ne ha fatte parecchie di marachelle. Di queste marachelle. Di queste cose rivolte all'assunzione da parte di aziende. Poi le aziende devono effettivamente avere bisogno di una persona che devono pagare. Quindi chi può portare pure la pizza, ma se non hanno bisogno... Ah no, certo, certo, certo. Beh no, è chiaro, io me lo aspetto appunto che arrivino veramente dai vari frog, dai vari pentagram, dai vari... Non so... Milioni di pizza. Esatto, milioni di pizza. Esatto, si chiama Resame. 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 Io ho provato a farlo a tensione di Nanni. È una persona che poi ha detto devi mettimi il cap e ho messo negli Stati Uniti e quindi l'hanno mandato un certo Nanni in un indirizzo. In Idaho. In Idaho. In Texas, Milano. Vabbè, niente, molto, 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 molto. Ultima notizia. Ultima notizia, pipiripi Nanni, allora questa lascio commentare a te perché tra queste settimane ci sono stati dissing tra Tony F, Fedez, quell'altro Johnny Savage come ragazzi si chiamano. Ecco, questo è un dissing. Giacomo è selvaggio. Giacomo è selvaggio. Nell'advertising un altro dissing. Vai Nanni. Dissing dell'advertising Greenpeace ha dissato malamente DAV. Vi ricordate la campagna di DAV dove faceva vedere la I, la bellezza delle donne? Di quest'estate se non ricordo male. di quanto loro fossero attenti al, diciamo, celebrare la bellezza di tutte le sue forme. Esatto. Ah, bravo, a celebrare la bellezza. Hanno detto voi celebrate la bellezza delle donne ma distruggete il pianeta. la bellezza del pianeta cosa state facendo per salvaguardare quella di bellezza, quindi il nostro pianeta, facendo vedere tutte le immagini di bottiglie spersi etichette di plastica eccetera eccetera alle persone. Bel dissing onestamente io lo trovo molto figo il fatto che certi brand si espongano con così tanta violenza diciamo verbale come violenza verbale perché è l'unico modo con cui un brand come Unilever può avere Unilever e quindi DAV a sua volta può avere diciamo una rottura di coglioni più che altro pubblica chiaro che se lo diciamo noi diciamo Unilever inquina sti cazzi loro dico ok lo segneremo sul taccuino delle stronzate che non si semeremo mai e invece quando lo fa un colosso come Greenpeace con una campagna che effettivamente fa milioni di view inizia a diventare un'urgenza quindi io lo trovo figo onestamente tu no 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 io non lo trovo figo assolutamente dicevi di no no che non lo trovo figo lo trovo no 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 ok allora lo trovo corretto è giusto che lo faccia Greenpeace giusto che si faccia anche questi termini molto crudi dall'altro punto di vista io dico che è molto è molto non fraintendete ci sto però è molto facile da parte di Greenpeace fare una cosa del genere ok arrivare dritto al punto e state così incazzate oltretutto il video stesso loro portano chiaramente acqua al loro mulino ah certo pesantemente hanno scelto probabilmente probabilmente sanno che Unilever è il principale produttore di plastiche monouso eccetera eccetera quindi poi hanno colto al balzo la questione della campagna Real Beauty quindi proprio hanno preso schiaffi duro no e ci sta e ci sta è una scelta intelligente più che altro però sto video potevano farlo con qualsiasi altra compagnia tipo ma sì ma figure Danone cioè non lo so no perché magari è dello stesso gruppo no è P&G cioè l'altro amico il problema è che sono due i gruppi esatto la scelta molto bella qua secondo me è stata quella di cogli la palla la palla al balzo su ah sì bravo Real Beauty Real Beauty e poi distruggi tutto certo è una narrazione corretta è una narrazione anche da parte di Greenpeace se posso permettervi è abbastanza facile facilina adesso Davo dice ma comunque la beauty non è messa cioè è vera è Real Beauty cioè non ah sì sì ma tutta via tutta via comunque però appunto devi contare la bellezza è davvero vera anche l'impatto che hanno questi questi gruppi quindi Unilever e in questo caso Dav nella produzione quindi di packaging sostenibili bellissimo bellissimo di Etiquette nel diciamo lanciare un messaggio e poi è quello che fanno Coca Cola Pepsi cioè che stanno rompendo con Heineken che ogni notizia praticamente è stiamo riducendo plastica la fanno comunque per carità non sto dicendo che sono dei santi però effettivamente dargli un minimo di urgenza a tutti specialmente questi colossi non fa mai male hanno reso comunque questa campagna che voleva essere la campagna di Dav voleva essere in qualche modo inclusiva al 100% hanno reso una campagna di greenwashing capiscono che che Dav effettivamente evidentemente ma io la prenderei come Dav anche come un complimento perché capiscono che la campagna è forte e quindi incita ad avere più consumatori e loro hanno detto ok se dovete scegliere Dav ricordatevi sempre che il packaging è in plastica bla 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 certo no no vabbè ma infatti ma infatti comunque bel dissing sempre interessante sempre interessante va bene allora perfetto tutto qua in descrizione qua sotto trovate anche Gianlu te lo dico così poi lo metti il codice sconto del 30% per partecipare ai Digital Design Days 6, 7, 8 ottobre a Milano noi saremo lì un sacco di speaker fighissimi Breach ha fatto uscire un reel questa settimana ricordandovi uno degli speaker pazzissimo appunto che fa i visual della PlayStation ha fatto le due cose ma adesso mi faccio vedere altri ci sono i fenomeni sono quegli eventi dove effettivamente tu vai a si vuol dire a sbrodolarti a sbrodolarti a vedere robe chiara proprio fighe quelli forti forti nel mondo del digital poi se non lo so se fate l'uncinetto l'uncinetto diciamo tutte queste robe qua chiaramente è meno interessante però se siete nel mondo del digital è veramente ed è un evento che ci è mancato perché è mancato per gli ultimi 3-4 anni adesso è tornato quindi a Bombolone ovviamente speaker incredibili comunque qua vi lasciamo il link andate a guardare anche chi sono gli speaker ripeto noi saremo lì in quei giorni posso dire una cosa una cosa romantica sui DDD noi abbiamo conosciuto Mitch con i DDD ah si? abbiamo conosciuto Mitch con i DDD Mitch puoi confermarlo? Dì parla puoi parlare noi abbiamo conosciuto Mitch perché siamo andati allora ai DDD no perché Mitch era venuto da Napoli Mitch era venuto da Napoli per i DDD e quindi ci siamo incontrati capito capito è meglio stare a casa accidenti va bene va bene comunque ci sto facendo vedere un po' di speaker veramente gente incredibile follia follia assoluta comunque su Instagram anche Mitch Mitch compreso Mitch compreso su Instagram sganciamo qualche altra chicchetta comunque il link qua 30% off che lo regaliamo noi capito? 30% ho soldi veri vabbè ragazzi bellissimo ci vediamo lunedì prossimo addio ciao 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 Ciao